Benvenuti a un altro anno alla Parker's High. Non sfaldiamoci quest'anno. Non lo faremo. Ragazzi, lui è mio cugino Lunga. Non importa. Datti una calmata. Abbiamo una famiglia splendida. Io sono un azzurro. Sì. Potremmo organizzare una festa. Sì, in effetti. I tempi duri non durano. Solo le persone dure durano. Cosa ha fatto? Casualmente è morto la scorsa settimana. Ho avvoltato pagina. Complicato. Fichile. Wade.